Sembrerebbe di matrice dolosa l'incendio divampato in una stalla di contrada safarello casalicchio nelle campagne di ricata che ha ucciso due cavalli e due poni custoditi all'interno. Una volta che il rogo è divampato è stato allertato immediatamente il 112 e sul posto sono arrivati sia i vigili del fuoco che i carabinieri della compagnia licatese. I vigili hanno cercato di estinguere le fiamme e circoscrivere l'incendio per salvare gli animali ma le fiamme avevano già compiuto la loro tragica opera e per gli animali non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dell'arma sono adesso al lavoro per cercare di chiarire i dettagli della vicenda cercando innanzitutto di verificare se nella zona siano presenti impianti di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi per venire a capo della matassa.